Lei ha detto che anche gli enti locali sono sotto usura. Diciamo che noi questo aspetto l'abbiamo molto affrontato quando ci siamo insediati. Ho voluto fare un esempio del 2011, quando vedi alcuni tassi di interesse che alcuni istituti bancari praticavano nei confronti di alcune società partecipate. Si arrivava fino a somme che andavano tra il 25 e il 30% di interessi e se non è un interesse usurario questo qual è? Poi viviamo continuamente con un debito storico ingiusto che noi consideriamo a tratti quasi usuraio, ci manca poco. Interessi su interessi, situazioni che mettono al collasso gli enti locali e che li vogliono costringere come fanno gli usurai, per poter campare, mettere in vendita i gioielli, licenziare esattamente in grande quello che si fa in piccolo con una famiglia che si è in difficoltà. Tra l'altro certe volte quello che si presenta, che ti vuole indicare la via d'uscita è il carnifice, cioè quello che ti ha posto in questa situazione. Perché se guardiamo sempre il debito di Napoli, che è un debito storico ingiusto provocato dallo Stato e che poi lo Stato in qualche modo ti pone le condizioni per vivere, che è lo stesso che ti dovrebbe in qualche modo risarcire di un debito ingiusto che ti ha provocato. Quindi non voglio fare, non sarà questo l'argomento del 13 e 14 marzo, però serve per dire, per far comprendere quando si parla di usura si va dal tema della famiglia di un vicolo di una città, al tema che può riguardare le banche, il sistema creditizio in generale, le imprese piccole e grandi, gli enti locali e fino anche l'economia che regge il prodotto interno lordo di un paese. Scusami, per incontrare qualcuno questo qua del debito, hai appuntamenti a Roma, in casa? Io li incontro sempre. Nonostante c'è chi pensi che noi stiamo per andare in crack o in fallimento e che evidentemente sono otto anni, quindi quasi ci portano bene le persone che dicono che noi stiamo per andare in fallimento. Voglio deluderli, noi non andremo mai in fallimento, ma non solo perché c'è il detto napoletano, o napoletana si può fare sicc sicc ma non mora. Si piega ma non si spezza. Eh, o si piega ma non si spezza, ma perché noi abbiamo messo in campo talmente di quelle azioni che le mine istituzionali e politiche le stiamo sminando tutte. Quindi la situazione è come sempre, fin quando ci saranno governi che non si accorgeranno della potenza degli enti locali e della forza di Napoli, noi ci metteranno sempre in una condizione di difficoltà, ma non per questo significo, ho il dovere di dire questo, perché altrimenti chi legge delle notizie, chi vede delle cose, si produce un allarme ingiustificato, mentre invece questa è una situazione di complessità, di difficoltà. Ma non c'è in questo momento zona più fertile, più reattiva e più pronta ad affrontare qualsiasi ostacolo come Napoli. Altri vanno in tilt e il rischio di andare in fallimento in situazioni di questo tipo, noi non ci andiamo perché abbiamo messo in campo una serie di azioni. Tra queste azioni, tra le tante, c'è anche l'importante delibera che abbiamo approvato la settimana scorsa in Comune, che adesso va in Consiglio Comunale perché è una proposta al Consiglio, con la quale chiediamo appunto una somma prevista anche dalla normativa nazionale, alla Cassa Depositi e Prestiti per pagare quei creditori che noi finora non siamo riusciti a pagare per delle normative che ci hanno soffocato, per un debito storico che non ce lo consentiva. Accedere a questo prestito ci consente, a proposito di prestiti, ci consente di pagare i creditori, scorrere il cronologico e quindi dare fiato ai professionisti, ai piccoli imprenditori, a tutti quelli che rischiano di andare in difficoltà quando lo Stato non si accorge che se toglie ossigeno agli enti locali, stai togliendo ossigeno al Paese. È quello che abbiamo cercato di dire, credo io e Sala, in modo sufficientemente efficace ritengo, qualche giorno fa a Napoli e che diremo nuovamente a Milano tra qualche giorno il 12 marzo. Quindi c'è bisogno di una maggiore attenzione perché l'attenzione agli enti locali, che non significa il favore agli enti locali, che non significa l'assistenzialismo, l'attenzione di quello che sta accadendo, significa dare forza proprio a tutti i cittadini in tutte le loro articolazioni anche economiche e professionali e quindi il Paese va più forte.